Easy Go Ari era in modalità registrazione durante lo scontro con il killer Forse riesco a trovare qualcosa La pistola che il killer ha lasciato al Blue Lagoon Forse posso risalire al proprietario Due ricevute dello stesso distributore di benzina Che sia vicino alla casa del killer Così non andiamo da nessuna parte L'assassino vive in questa zona Ci abitano 342 persone Non ci siamo Devo riuscire a identificare il killer con più precisione Confiscata durante le indagini di polizia cinque anni fa La pistola dovrebbe essere ancora in custodia Chi potrebbe averla fatta uscire Se non un poliziotto? Un orologio d'oro Sono sicuro di averlo già visto da qualche parte L'orologio regalato per la promozione a tenente L'assassino è un poliziotto La spada era già presente nell'ufficio di pago Non ha a che fare con il killer L'assassino è un poliziotto La spada 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 è un poliziotto c'è un solo negozio di origami grazie a tutti pare che l'assassino sia un poliziotto Carter Blake si spiegherebbero la fine delle indagini e la sua brama di incastrare Ethan Mars un poliziotto c'è solo un poliziotto nella zona del delineamento geografico beccato è proprietario di un magazzino al porto se mi sbaglio Sean Mars è spacciato